in un palazzo vado al quinto piano e mi butto di sotto non muoio GURULANDIA ah siamo partiti si ma questo ci sta buono il podcast in cui non avrei bisogno ciao che sono Walter bella sigla io la lascerò così ti piace? lui è Walter finita la sigla signori benvenuti a GURULANDIA oggi ospite incredibile io sono tuo fan da quando avevo penso sette anni 30 ma io ti giuro quando andavo alle scuole medie imploravo mia madre per una maglietta di corona però non me la voleva comprare perché diceva no io di quello lì non te la compro era molto provocatore aveva il sistema anarchico rivoluzionario che già prendeva piede altro che cospito altro che cospito apro e chiudo una parentesi cospito è uno sfigato e non conto un cazzo ecco e si parte la prima bomba ad ogni modo lo avete già capito oggi con noi Fabrizio Corona e facciamo un altro allora Fabi non so se segui GURULANDIA se l'hai mai visto sicuramente sì ho visto purtroppo ho visto anche un ospite un po' sfigato chi? è LICONTI lo conosci? chi c'ha LICONTI? no lo conosci? no conclude così ad ogni modo è un podcast che si concentra molto su quello che è imprenditoria e business eccetera eccetera ok perché GURULANDIA? perché hai visto inizialmente si voleva chiamare un po' tutti i guru del settore siamo un po' tutti i guru di qualcosa sai che guru brand l'ho lanciato io con il mio amico Matteo Campi guru quello ah quello andava un botto ce l'avevano tutti mi hanno fatto milioni e milioni e milioni una storia pazzesca ho scritto un libro che praticamente la parla di me però leggetelo è una storia imprenditoriale molto e com'è andata la storia? ma non c'era Bobo Vieri dietro? no è fallito di colpo è passato da 5 milioni a 400 milioni lui aveva un emolumento amministratore di 2 milioni e mezzo di euro al mese ne spendeva 4 e poi l'azienda è saltata lui ha fatto 4-5 anni di galera oggi è un uomo da 1500 euro al mese ma come mai lo indossavano tutti? io vedevo era quel periodo lì in quel periodo lì diciamo che dal 2000 al 2010 ci sono andati i più grandi marchi c'era uno sviluppo commerciale enorme grandissime grandissime guru baci a bracci sweet ears erano gli stessi lo stesso Dutch Monella Vagabonda Monella Vagabonda era un marco Lugio Lugio tu pensa che Lugio noi nel 97-98 era una magliettina elasticizzata con Swarovski che mettevamo uomini e donne oggi è un'azienda con più di mille dipendenti che fattura 500 milioni di euro l'anno esatto avevate anche spiegato la storia di Dutch dando la maglia a Walter Nudo all'isola dei famosi era quel periodo lì i Coronas nasce nel momento in cui c'era questo business commerciale enorme scoppia l'inchiesta a quel punto io da imprenditore sarei diventato personaggio legato al personaggio ci stava il merchandising cosa che poi hanno fatto tutti dopo lo fanno adesso i cantani dopo 30 anni Coronas primo anno fece più di 10 milioni di euro poi lanciavi le mutande dal terrazzo quella era stata un'operazione commerciale di tecnica se la ricordano tutti mi racconti un po' quella che è stata la tua storia ma non la tua storia è proprio imprenditoriale ci metti sei anni 18 ore un riassunto almeno da dove sei partito cosa ti ha veramente un dono un dono se ti fai conto che io a 16 anni quando andavo a scuola lavoravo come archivista in un'agenzia fotogiornalistica con le diapositive poi ho aperto la mia agenzia fotogiornalistica che è stata l'agenzia fotogiornalistica più importante d'Italia che ha cambiato il sistema delle fotografie però poi la mia storia è molto 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 lunga però diciamo che siamo partiti da una stanzetta in 4 anni ci siamo presi tutto il mercato arroganza abbiamo cambiato però sono doni che tu hai ad oggi quante società possiedi? zero zero è vero l'avevo visto nell'altro podcast che hai fatto ma questo come sei stipendiato sei un dipendente sono un dipendente stipendiato bene con dei bene fitto una casa dove vivo e della società una macchina mi danno a dipendente di chi? dell'Atena SLR società dell'Atena SLR e chi sono i soci dell'Atena SLR? soci guardate nella camera Fabrizio è la mente dell'azienda fantastico ma senti ti volevo chiedere a oggi quello che fa la società per cui lavori diciamo così fai il lavoro in teoria fai il lavoro che anzitutto noi non abbiamo un sistema imprenditoriale dove crei i sistemi che guadagni senza lavorare devi sempre lavorare e l'obiettivo è incassare quotidianamente tutti i giorni per questo non si investe abbiamo ridotto ovviamente il personale io ho sempre avuto uffici ho lavorato in uffici con 30 persone oggi siamo 8-9 facciamo lavoro a 360 gradi consulenze siti digital e-commerce pubblicità pianificazione progetti editoriali contenuti per la stampa contenuti per la televisione tocco serie tocco film poi c'è tutta la parte legata al personaggio quando ci vengono le idee decidiamo di fare il lavoro che i clienti le televisioni i giornali non sanno fare e hanno bisogno di noi ma è la roba dei paparazzi però la fate sempre? non la facciamo più non esiste più quel mercato lì è morto e questa era una domanda che mi era segnata può succedere tocchi durante l'anno quei 20-30 mila euro durante l'anno li facciamo ma può capitare a caso cioè che ti vendi un tuo servizio che non so vendi una paparazzata abbiamo venduto una roba che ci capita a caso attraverso notizie che ci arrivano e quindi vendiamo notizie ma di per sé il mercato dei paparazzi è finito morto e sepolto e secondo te qual è la causa di questa morte? la causa di questa morte non sono assolutamente social chi lo dice sono ignoranti scusa allora la mia ignoranza è il cambio del sistema perché dopo Vallettopoli la chiusura della mia attività già si cacava addosso bravo non si è più osato è cambiato il sistema poi noi tiravamo fuori delle cose che soltanto noi potevamo tirare fuori ma il mercato non è pronto più a darle cioè si veniva da un modello americano un modello inglese che era quello del Sun vi ricordo per esempio un servizio su tutti che erano le foto di Kate Moss che pippava cocaina sul Sun in Inghilterra pagati 10 milioni di euro oggi una roba del genere non avrebbe mercato che sarebbe impubblicabile perché purtroppo siamo invasi da questo cazzo di politicamente corretto dove tu non puoi assolutamente più dire niente fare niente postare niente di colpo quindi la chiusura di tantissimi settimanali nazionali la bibbia del gossip che chi è passata da 700-800 mila copie a 40-50 mila copie aveva un border di acquisto di fotografie di 300-400 mila euro a numero oggi se arriva a 8 mila euro a numero è tanto se voi oggi immaginate lo scoop più grande che c'è può avere un mercato un acquisto che va dai 5-10 mila euro quando prima era intorno ai 250 mila euro e deve avere l'ok della struttura vedi qualsiasi un modello di business può avere una fine un lavoro come questo secondo me è perché chi fa quel mestiere non ha più le idee per rinnovare e rivoluzionare cioè se io avessi in mano delle attività di questo tipo e facessi solo quello quell'attività la farei tornare a guadagnare bisogna saperlo fare secondo me oggi c'è poca gente capace al posto di comando in vari settori dove si comanda dall'editoria alla televisione ai giornali ma scusami te facevi questo? io lo facevo per altri sempre in appalto io penso a me stesso noi siamo un gruppo di cani sciolti che lavorano per lo piccolo obiettivo di guadagnare stare bene incassare tanti soldi che ti permettono di essere libero di non avere padroni e non scendere a compromessi nessuno siamo sempre stati soli e com'è nata questa attività di gestire i paparazzi cioè quando è che hai capito che c'era un'opportunità di guadagnare non hai letto i miei libri? allora mi sono guardato tutte le interviste prima di fare scusami cioè te inviti hai la possibilità grazie al tuo amico di intervistare Fabrizio Corona e ti presenti qua con una domanda del cazzo e allora io so contro era per fare un attimo diciamo un riassunto allora quanti libri ho scritto? non lo sai quattro no tre di più sette è la madonna ho scritto il primo libro ti assumo così te li compri poi voglio mi mandi le fotografie e te li compri devi trovare il primo libro è un'operazione che ho fatto con il libro che si chiama storia di un fotoreporter andaggio che è uscita immediatamente contestualmente all'inchiesta di Vallettopoli in allegata al libro in centomila copie che presentai a Costanzo il 2006 e fu un boomerito editoriale pazzesco perché vendette poi feci una cacata di libro allucinante con Cairo che erano le mie prigioni appena uscito dal carcere una cacata di libro e quindi il secondo poi feci un capolavoro quando feci quattro anni di fila di galera da opera con Mondadori nella sezione con i più importanti libri e scrissi mea culpa dopo scrissi sempre con mea culpa la cattiva strada è scritta insieme a un premio strega sai cos'è il premio strega? no qui non ti faccio fare brutte figure però premio strega il giornalismo poi ho scritto un altro libro che era una cacata però molto commerciale non mi avete fatto niente che è quel libro famoso che fu trovato a casa di Matteo Messina Danaro tra i 20 libri che lui leggeva quindi non ci hanno fatto poi anche due anni fa ho scritto un capolavoro di 1200 pagine per la nave di Teseo che è la casa editrice più importante al mondo si chiama Come è inventato l'Italia quindi sono sette libri però spiego che all'inizio la Coronas quando nasce faceva produzioni fotografiche e quindi magari realizzavamo campagne piuttosto che servizi di produzione di moda ci mettevamo 20-25 giorni insomma costi 30-40 mila per guadagnare 5 mila euro poi un giorno venne il sindaco Scappagnini che era famoso perché aveva curato Berlusconi e aveva tutto l'appoggio di Berlusconi perché gli aveva dato un rimedio per combattere la virilità diciamo così quindi gli diede la virilità quindi gli permise di godere del bene sessuale per il resto della sua vita quindi aveva carta bianca su tutto lui stava con una persona abbastanza famosa per lanciare questa persona famosa erano in primi anni 2000 lei si incontrò con Tony Renis ai tempi Tony Renis era molto molto famoso chiamai un paparazzo gli diedi 200 euro fece le foto le foto le abbiamo vendute a 10.000 euro allora hai capito che prima lavoravi un mese per guadagnarne 5 hai lavorato un minuto e ne avevi guadagnati 9 e 8 e quindi di lì ci siamo buttati sul mercato chiaro senti io vorrei chiederti una cosa penso che pochissimi come te in Italia conoscano l'importanza del personal brand è fondamentale e della propria immagine ormai lo fanno lo fanno ormai praticamente tutti ma te lo fai da noi abbiamo e lo fai bene noi siamo stati gli antisegnani sempre di qualsiasi tipo di attività cioè noi abbiamo fatto il primo programma che poi segnava questo l'abbiamo fatto con Berlusconi nel 2010 che era Libertà di Parola all'arrivo di tutti i programmi populisti quelli che sono poi di Giordano di Del Debbio noi siamo stati i primi a fare un sito che poi sarebbe diventato un sito di informazione alla TNZ americano TNZ americano che era l'anticipazione di fanpage era il 2010 noi siamo stati i primi a inventare il product placement noi siamo stati i primi cioè siamo stati i primi a fare tantissime cose poi però ci stufiamo e facciamo e facciamo tante altre cose comunque pensi che al giorno d'oggi è fondamentale prima dell'arrivo di Instagram alla fine Instagram è un personal brand di se stesso devi creare attività la devi provare da te stesso ti hai iniziato a lavorare sulla tua immagine appunto 20-30 anni fa una ventina d'anni fa penso ok a scopo lucrativo ovviamente quanto è cambiata lavorare sulla propria immagine oggi rispetto a quando devi saperlo fare poi incontri oggi in questo momento ti permette di avere ci vuole anche bravura e fortuna ci sono dei ragazzini social che guadagnano tantissimi soldi con delle cagate micidiali non so questi che fanno ieri ho incontrato questo tizio ArabGBT ArabGBT ah sì 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 ok che è un ragazzino che faceva il meccanico si è ambientato un'attività di persona poi il problema è poi non è guadagnare i soldi per un anno due anni il problema è continuare a guadagnare cioè ora questo è il periodo dei cantanti cioè il periodo l'abbiamo visto negli ultimi tre anni tutti questi rap trap che fanno le serate 15-20-30 mila riempie i locali fanno vedere i soldi questa roba qua ok oggi da zero sono diventati milionari hanno questo questo pezzo di fascia di età in cui sono diventati milionari un conto però essere milionari a 20 anni e non fai il calciatore allo sportivo a 25 a 30 a 35 a 40 a 45 a 50 dopo aver fatto una vita di spese una bella vita cioè quindi io tutti questi li voglio rivedere poi all'alba di 40 anni ma lì perché secondo me c'è la differenza tra chi magari fa l'imprenditore sa fare impresa sa gestire il denaro e chi un po' in un modo o nell'altro se li ritrova poi non sa bene da che parte girarsi no vabbè però sai ci sono ci sono storie storie c'è gente che si si ha avuto fortuna però eliminando i lavori che possono essere non solo sportivo il calciatore che quindi guadagna tantissimi soldi oppure il il cantante oppure quindi il figlio di papà i giovani che poi incominciano a lavorare oggi hanno varie possibilità di guadagno però poi bisogna vedere se nel tempo e non devono fare un certo tipo di attività bisogna vedere se poi nel tempo riescono a mantenerle a 3NSRL si occupa anche del lancio di nuove figure nel mondo noi facciamo contratti di personal branding nel senso che garantiamo determinate cose anzi scriveteci se volete e poi in descrizione abbiamo un contratto standard che costa noi gli diamo visibilità li mettiamo in dei sistemi come vedete oggi il mondo della televisione funziona attraverso meccanismi che i grandi reality non so tipo il grande fratello allora si è il fidanzato di quella sai che quella va al grande fratello quella ha un ex fidanzato il fidanzato fa un'intervista sul giornale il giornale esce allora magari vai a fare l'ospitato al grande fratello al grande fratello l'ospitato funziona ti mettono dentro una settimana punto io ho fatto sposare coppie in questo modo coppie famose di cui oggi non posso fare il nome per diritto di privacy che senso ho fatto sposare tramite incontri e contratti che poi però si sono innamorati veramente questo non è detto però non si può sapere essenzialmente chi si quale non lo so in mira di massima cioè sei vero è vero esatto è vero è vero 100% c'è un matrimonio che c'è stato 6 mesi fa senti ho bisogno che tu mi rispondi a una domanda per far mandare virale questa puntata vai Fedez e Luis è vero quello che hai detto oppure non è vero non è che è vero io ho un canale tra parentesi il 10 maggio infatti l'ho visto lì il 10 maggio ho un processo a Milano no il 10 maggio il 10 fine maggio ho un processo a Milano perché Fedez e la Ferragni mi hanno querelato quindi sarò in tribunale con loro perché ho dato un'altra giornata tranquilla ho dato a loro degli ebeti ah degli ebeti degli ebeti ok ah in una storia di Instagram sì quando cagavo ricordo ho tirato la sciacquola e c'era la canzone sì sì mi ricordo io mi dissocio voglio benissimo a Chiara perché li vuoi bene a Poveria a me piace ma piace tanto io sono un entry ma no diciamo che lui ha cavalcato quest'onda ormai ha un atteggiamento un modo di fare diciamo non ci entra di male molto strano molto particolare fa sempre battute l'abbiamo visto quello che ha fatto a Sanremo tantissime volte per chi guarda le storie allora c'è chi guarda le storie perché si incuriosisce e guarda le storie per sapere vedere la vita altrui io ho un profilo fake che non vi dico qual è con cui seguo circa delle 700-800 persone che secondo me sono quelle che contano che devi ti interessa per capire come fanno comunicazione per capire una serie di movimenti per capire come cambia il mercato c'è il quarto per studiare cioè tu attraverso l'immagine studi e cerchi di capire quello che l'immagine e il contenuto ti può dare tantissime volte Fedez e Luis Sal fecero delle storie molto premettenti combattute giocare con loro stesso sulla loro omosessualità o non omosessualità ora dopo il boom di Sanremo e il casino che è successo che ovviamente sono fatti privati loro ora vedremo che hanno lanciato la serie pubblicizzando anche l'hanno lanciata poche ore fa dicendo che racconteranno la verità anche di quello che è successo a Sanremo ma credo poco che lo faranno ovviamente lei gli avrà dato degli out out di colpo lui cade in un silenzio depressivo totale e di colpo questo lo dice lui io poi non entro perché è già una quale era e di colpo scompare dopo quattro anni Luis Sal dal podcast è una spiegazione te la deve dare anche Stiscia Notizia l'ha dato il tapire e lui mi ha dato una spiegazione c'è qualcosa che non va però te hai detto pubblicamente che c'è una relazione fra loro due io non ho detto che sono gay la mia idea il mio pensiero è che boh evidentemente non hai le prove alla supposizione non le ho prove perché questo mercato non avrebbe più la possibilità di arrendere e monetizzare questo scoop perché se uno riuscisse a fare uno scoop del genere e avesse una monetizzazione importante mi ci impegnerei lo farei e ci riuscirei ma siccome sarebbero impubblicabili le fotografie non troverebbero mercato e lo sforzo lavorativo non sarebbe parificato al guadagno economico e poi sinceramente che cazzo ne frega se questa cosa fosse uscita 15 anni fa quando andava tutto questo quanto sarebbe valuta una foto di Fedez e Luis ma allora avete preso questo quanto sarebbe valuta non è italiano quanto sarebbe stato il valore ah ok faccio gay ai tempi poteva valere un 150 mila euro poi da Fedez e Luis sono in trend insomma in trend si però lui non è un personaggio social non è un personaggio che sulla carta stampata funziona vi faccio un esempio cioè tipo togli dai social non ha valore poi lui ma è la stessa nome di Cattelan Cattelan è uno che Ale tutto lo consiglio perché è comico no no su Instagram si chiama Ale Cattelan quindi lo chiamo io chiamo le persone in base ai nomi Instagram allora chiamalo Ale Cattelan Ale Cattelan Ale Ale vuol dire il tuo amico Chioccio Ale Cattelan se tu prendi loro hanno preso Mocchio Selvaggio che sui social ogni puntata fa un milione e mezzo due circa ok l'hanno messo su Rai 2 nella settimana di Sanremo dove tutti i programmi di Sanremo raggiungono picchi di ascolti devastanti e Mocchio Selvaggio su Rai 2 con tutti gli ospiti di Sanremo col traino della Ferragno col traino della Ferragno ha fatto il 2% di share cioè una roba c'è il nulla cosmico e questo ti fa capire il valore televisivo loro chiaro vabbè però sono anche due format completamente diversi no ma che c'entra Menti Fedes con dei personaggi poi erano orari diversi ma non c'entra tutti i programmi Rai durante il feste di Sanremo hanno un aumento dello share del 20-30% la vita in diretta fa il 20-50% uno mattina storia italiana storia vera fa il 15-35% perché la settimana di Sanremo è quella è lui che non funziona capisci non funziona all'interno di un circuito televisivo e anche questi rapper e la gente come lui hanno un mercato molto molto di nicchia cioè comunque però bello ampio no l'età è 15-30 cioè te non cammini per la strada e vedi Lazza e un signore di 50 anni gli fa oh Lazza no chiaro certo se tu vai da Corona io sabato ho fatto una serata aggrigento c'erano 15 anni ti ferma dalla 15enne all'ottantenne cioè tu copri generazione 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 loro sono delle nicchie se vai al concerto di Sfera ha fatto un grandissimo concerto ora a Verona strapieno però tutti ragazzi una cosa che mi interessava chiederti che è sempre stata la mia allo stesso per esempio prendiamo hai una scusami hai una foto di Fedez e Luis ok che insieme una supposizione non esiste mi hai detto può valere 150.000 euro no valeva valeva ok ai tempi ma invece valuta cioè qual è il tipo di fotografia che vale di più il tradimento piuttosto che ma ora non vale nulla ai tempi è una curiosità di quando era ai tempi valeva quello che era fuori dalle regole cioè se eri sposato e andavi con un uomo la droga no no il tradimento il tradimento il tradimento oppure l'outing oppure delle robe che erano fuori dal sistema sì perché andavano sui giornali visto che devi mettere roba che si può leggere noi ai tempi fecimo quella di Adriano invece la roba più assurda fu uno se vi ricordate del periodo di crisi della Unziger questo e ai fatti la Unziger entra in una setta ne ha anche parlato ne ha riasciato parecchie interviste quindi lascia il gruppo di lavoro e si fa gestire da una maga questa maga poi lo fa fidanzare col figlio e quindi viene fotografata che si baciava col figlio poi fotografiamo lei che si baciava con la madre del figlio quindi la maga poi la fotografiamo che si fidanzava che si baciava col marito della maga cioè quindi in un mese abbiamo fatto un trio che sembrava una roba assurda con un giro di volume di affari di 500 mila euro ma era una roba allucinata a proposito appunto di combinare c'era magari ai tempi qualcuno che bussava da voi e vi chiedeva di combinarlo uno scoop tutti quasi tutti poi alle volte lo combinavamo noi prendevamo per il culo i giornali mi ricordo una volta Adriano in Sardegna con cui non andavamo d'accordo lui aveva una villa dove si salivano degli scalini quindi si fotografava lui che usciva da questa porta abbiamo fatto le foto di lui che usciva da quella porta lui che entrava abbiamo preso un puttanone della scuderia di Schicchi l'abbiamo messo fuori dalla porta lei era una pornostar tutti i giornali Adriano siccome la pornostar non la conosceva neanche assurdo ma quello era il potere ci sono robe che voi non potete capire no ma infatti non capisco ma per avere un'idea continuate a dormire ragazzi per avere un'idea non so se si può dire quali sono tipo le due foto che ha venduto a più soldi hanno tantissime per esempio venduto dacci il valore monetario dopo il caso di Lapo che era stato trovato in overdose a Miami fece il bacio di Lapo il primo bacio con un'altra donna che anche lei sembrava un po' un tranzo era anche bella abbiamo venduto a 180 200 mila euro una foto le foto di Sircana uscì che furono ritirate dall'oggi furono vendute a 250 mila euro la mia intervista dal carcere da San Vittore quando ero dentro fu venduta a 120 mila euro un'intervista top hai visto l'Inter ha abbattuto la Juventus l'altro giorno c'è qualcosa che vorresti dire a Mughini a Mughini Mughini è uno sfiato di merda poverino mi fa bene non è che vorrei dire a Mughini vorrei dire ai gobini che sono agli juventini che sono dei gobini di merda mi piace molto se avete visto su youtube quando Mughini gli dice ti prendo ti metto un giardino ma come fai a avere quella faccia tosta lì a dire così perché uno è incapace che gioca su un personaggio non è capace di scrivere due libri e fare il giornalista a proposito lì eri da Giletti vero se non sbaglio ecco questa è una cosa è un argomento che non tratto perché è un argomento molto scottante ma perché non tratta nessuno questo argomento io ti spiego io io non lo tratto perché prima di tutto Massimo Giletti è uno dei miei più cari amici per quello sì secondo me gli hanno fatto una porcata molto molto grave ci sono dei procedimenti penali in atto civili e soprattutto dietro c'è una storia che è molto più grande di voi del sistema del tipo di ascoltatore medio che può ascoltare questa trasmissione qui parliamo di sistemi che hanno cambiato questi paesi non c'è da scherzare ma sicuramente ci hai già risposto essenzialmente e senti Fabrizio la fama ti ha portato più cose belle o cose brutte nella vita? entrambe ma poi sono state scelte cioè nel momento in cui mi scoppia l'inchiesta da Vallettopoli io sono costretto perché fino a quel momento lì lavoravo dietro le quinte poi ero famoso perché ero il merito di innamori ci finivo sui giornali che te avevi Fabrizio quegli anni? Vallettopoli mi fa far calcolo dai dimmelo te giù quando? quando hai cominciato? che età avevi? ma io la faccio in breve 18 anni sono andato via di casa ho vissuto a Miami un anno 19 22 anni ho cominciato a lavorare con l'Elemora 23 ho conosciuto Nina 24 la coronosa l'ho fondata 24 anni ne ho 49 25 anni fa cioè in Naccarlo sei nato nel 2001 Nina l'ho conosciuta nel 99 io sono del 74 23 24 anni ma quella roba lì ce l'avevo già quando c'avevo 14 anni io ero un grandissimo calciatore fortissimo giocavo in porta 15 anni giocavo in eccellenza 16 anni potevo avere una carriera da serie A 15 anni ho cominciato a uscire tutte le sere avere l'ossessione dalla palestra le fighe quella roba lì ho smesso di giocare ma già quando uscevo a 15 anni nella Milano che era non potevo entrare nei locali anche quando andavo nei locali la gente si fermava anche se non ero famoso quella cosa lì o ce l'hai quindi secondo te anche imprenditori si nasce o si può anche diventare io per esempio imprenditori lo sono diventato quando ho incominciato per esempio con la corona facevo una paccata dei soldi che ho gestito male oggi mi hanno confiscato svariati di milioni di euro in contanti una casa da 3 milioni di euro tasse multe avevo buttato via 10-15 milioni di euro perché non non ero capace di fare un imprenditore oggi col tempo lavoro per questa agenzia che penso è un'agenzia fiscalmente più precisa che c'è paga tantissime tasse ha un ise altissimo non c'è una virgola la testa a posto la testa non la puoi mettere a posto se hai quella testa lì la testa ti rimane però quando si pensa a Fabrizio Corona una delle primissime cose che viene in mente è sempre il bad boy ma diciamo che non è il bad boy ce l'hai nell'anima il problema è che tu hai un animo che hai una calamita per gli eventi positivi e negativi che ti succedono cioè tu non hai una giornata normale cioè se io vi racconto la mia serata la mia spesa ultimi otto giorni un uomo normale 100 vite di un uomo normale non fanno i miei ultimi otto giorni raccontaci sono qui racconti è una una sera una serata qual è la tua giornata tipo? la mia giornata tipo dipende poi se non parto o parto la mia giornata tipo è in media vado a letto alle 4-5 del mattino mi sveglio alle 10 perché arriva la cameriera incomincio a lavorare dal tavolo vado in palestra vado in ufficio esco alle 11 all'ufficio tutto il giorno in ufficio mezzo giorno quando sono a Milano palestra tutti i giorni tutti i giorni e ti segue sempre mi ricordo c'avevi l'amico Nathan Nathan Persona 3 Nathan Persona 3 quante volte vai a settimana? ma ormai io mi alleno tutti i giorni ma per la cura dell'immagine invece c'è tipo la ampade che stiamo eseguitando c'è il video delle Iene dove ti dico quante pillole prendo 4 di chalice ogni mattina no ma prendo 100 pillole al giorno ma è vero quello è vero prendo 100 pillole al giorno faccio 3 massaggi a settimana faccio le lampade ma è vero che prendi 4 pasticche di chalice ogni mattina attenzione ragazzi attenzione pericolosa non mi scoppia al cuore si prende anche noi ora seppi chalice di Fabrizio non ne lasci una questa sera magari servisse come mai? qual è? me l'ha dato l'urologo me l'ha dato l'urologo è anzitutto il miglior termogenico che c'è cioè quindi ti fa dimagrire e bruciare i grassi quindi oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qua ovviamente integrale con la presa l'aula e ti prendi uno e bruci i grassi ma non hai paura? di morire? almeno muoio magro almeno muoio magro te che ti consideri narcisista? non è che mi considero sei comunque sei consapevole di questo sei sempre stato o ci sei arrivato con la fama? sempre stato egocentrico o narcisista? egocentrico narcisista tutto ma ce lo naturalmente ci sono quelli che lo fanno che non hanno senso che lo fanno hanno motivo di essere né narcisisti né egocentrici poi non lo fai involontariamente se te sei a cena a un tavolo con 30 persone alla fine sei sempre dipende puoi essere con detenuti marocchini albanesi imprenditori miliardari puttane gente seria gente della politica intellettuali che ti posso dire gente della chiesa comunque ti siedi parli sei sempre al centro della discussione e questo vuol dire qualcosa a te ti piace questa cosa? la fai apposta? no 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 fai in modo di essere lì? sono leader di nascita esatto perché questa cosa sembra appare magari per il pubblico a casa eccetera eccetera che a volte tanti casini sei proprio tu che te li crei per fare ascolti sono automatici nel tipo di vita che fai cioè se te vivi a 360 all'ora tutti i giorni certo sì c'è più probabilità certo e sei parecchio cioè ti porta tanto stress nella vita come lo gestisci? lo stress? sì non lo gestisco vivo perennemente stressato ah ok ogni due giorni ogni due oltre la settimana mi prendo una ciucca di tequila e mi riprendo un po' e il giorno dopo sono un po' bello senti ma hai detto che ovviamente ti credi no? un po' superiore a tutto il resto del mondo io mi credo io mi credo cioè io sono convinto oggi che questa diventa virale rifacciamo io sono convinto oggi che se vado e non lo fate ragazzi io sono convinto oggi che se vado e non lo fate ragazzi vado in un palazzo vado al quinto piano e mi butto di sotto non muoio cioè non mi faccio neanche male però questo capito? non è che poi mi rompo una gara non mi faccio male però sai che io mindset d'acciaio io ti giuro che amo con tutto me stesso questo tipo di mentalità cioè veramente penso che sia la vera forza allora poi il bello della mia vita è ogni giorno avere un problema e ogni giorno trovare la soluzione per risolvere un problema irrisolvibile infatti Fabrizio Corona real per continuare sulla passare è simpatico ha capito una delle domande che volevo farti è come cazzo fai a rialzarti tutte le volte? cioè c'è anche il DNA c'è la mia perenne sfida eppure di Bartoste ne hai avute eh eh sì ma poi noi ne conosciamo alcune poi magari ne hai avuto tante altre quotidianamente tutti i giorni ma ho una determinazione una grinta eh fino a quando mi regge fino a quando mi regge il fisico perché la problematica è che comunque eh passando l'età tu esteticamente puoi sembrare esattamente come prima come testa come come determinazione è sempre quella ma il corpo incomincia a darti dei segnali naturali di cedimento ma quella è la natura non ci puoi fare nulla cioè io per esempio non è che vado a farmi il cambio del sangue l'ossigeno o controlli medici o quelle robe lì che ti curino l'imbecchiamento ovviamente delle cellule cerebrali del corpo della stanchezza cioè faccio molta più fatica rispetto a fare le cose che facevo prima cioè ma credo che sia genetico ma c'è mai stato un momento della tua vita dove hai pensato non voglio essere più famoso basta faccio un'altra cosa mai 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 esiste mai io oggi potrei eh con i contratti che ho lavorati smettere di lavorare la vita ma mi rompe i coglioni chiaro ma hai qualche idolo a livello imprenditoriale qualche mentor qualcuno no non c'è nessuno che mi ispiro nessuno che mi piace infatti non hai mai imparato comunicazione vendita Nellemora ti ha insegnato tanto ma ma Nellemora era uno che era in un giro che però ti ha fatto entrare nel giro mi ha fatto entrare in un giro ma non era capace Nellemora è la sua sfortuna che lavorava per pubbliche relazioni ma non era una persona intelligente io non c'è una persona che come sei arrivata che oggi stimo oppure cazzo guarda quello che è bravo guarda quello sì poi posso giudicare delle persone che che dico cazzo questo è stato bravo questo non è stato bravo ci sono due tre che oggi li guardo gli ho scritto uno gli ho scritto ieri cazzo bravo sei stato bravo chi? ma ieri ho scritto a Steve Masalari lo conoscete? è un grande Steve Steve è una storia io lo conosco me lo porti qui? sì ti do il numero bravo Steve è un bravo ragazzo è un ragazzo è cresciuto in una famiglia provinciale di paese il padre ha avuto per anni e anni le discoteche più importanti d'Italia quindi grossi enormi patrimoni economici comunque lui ha sempre fatto la bella vita ma è sempre stato un ragazzo serio che ha lavorato oggi il padre è morto gli ha lasciato un impero ma ha saputo lo porta avanti alla grande ha saputo con delle nuove idee generazionali come l'innovazione che ha fatto con i cantanti nella discoteca lo spazio aperto che ha fatto questa catena che ha fatto con Donato sull'onda dell'antico vinaio l'antico vinaio è un esempio di come attraverso un'idea creativa nuova te puoi arrivare a fatturare milioni e milioni e milioni trovando un imprendimento giusto la storia di Donato dell'antico vinaio era un mese fa sul Corriere della Sera era bisfrattato dalla famiglia poi a un certo punto l'hanno messo a lavorare lì ha incominciato con delle storie estreme oggi è un'azienda che vale 500 milioni 500 milioni si è aperto in tutto il mondo è stato comprato il 50% dalla famiglia Ruffini lo stesso Donato oggi lasciando perdere il due punti vendita che ha ma se Steven sarà bravo cosa che credo può aprire in tutto il mondo ovviamente un sistema imprenditoriale può ripercorrere fare il percorso dell'antico vinaio anche nel caso di Steven Basalari la sua forza secondo me sta proprio nel personal branding nell'utilizzo della propria immagine lui l'ha sempre fatto anche quando era ragazzino poi diciamo che poi ha saputo fare le scelte imprenditoriali giuste l'esempio di Donato è una scelta imprenditoriale giusta ma io ho un altro a cui faccio i complimenti per esempio Stefano De Martino è uno che comunque è caduto è caduto si è rialzato da ballerino è aperto i negozi e robe varie oggi con mille difficoltà e mille pregiudizi e comunque si è ritagliato una sua carriera da conduttore di prima serata su Rai 1 di prima serata su Rai 2 con due programmi che vanno tutti molto bene quindi migliori programmi della fascia di Rai 2 si è fatto un suo programma riportando l'idea del bar di Suoronno che è Barstella che è anche un programma culturalmente anche molto importante oggi si è messo a fare spettacoli nei teatri cioè uno che si è rimboccato le maniche si è costruito il personaggio si è rifatto l'immagine e si è preparato per una carriera che magari nel tempo lo vedrà protagonista dopo mille cadute e lavorando su un'immagine negativa che aveva allora queste non è che sono persone che tu dici ti ispiri sono persone che tu guardi dall'esterno della tua esperienza e dici cazzo bravo Steven cazzo bravo Stefano sì sì no mai sono d'accordo cioè questi sono dici bravi le persone brave che a differenza degli altri non pensano ai soldi alle robe a divertirsi ma pensano a produrre a lasciare il segno più che altro non è scontato che nascendo già da una famiglia ricca e tutta questa voglia io conosco la maggior parte dei figli dei più ricchi imprenditori che abbiamo in Italia sono dei coglioni che pensano andare alle feste a pippare non faccio i nomi perché prendo querele ma a Milano ce ne sono quei 5 o 6 che sono ma perché nascono no che ce ne sono dei cerebrati tossici che bruciano i patrimoni dei genitori e non fanno un cazzo mattina e la sera senti Fabrizio conosci Andrew Tate? conosco tutti mi scrivono ma secondo me è un fenomeno commerciale tu potresti essere il nuovo Andrew Tate secondo me è vero ma che se ne vada a cagare Andrew Tate tanto Andrew Tate è in galera dice che Andrew Tate sia in galera per chi ha pestato i piedi sbagliati è un po' quello che ti è capitato a te volevo arrivare qua Andrew Tate non stiamo parlando di Assange cioè sono delle robe completamente diverse dei sistemi lui l'ha fatto per provocazione l'ha fatto ai massimi sistemi e poi per la visibilità anch'io l'ho fatto in paragonabile a quella roba lì però Andrew Tate secondo me è un mito del digital non è una roba a me non interessa Andrew Tate ma hai pestato i piedi sbagliati sempre tu continuo a farlo magari per esempio io so che hai avuto una pena che probabilmente se non ti chiamavi Fabrizio Corona era ben più basso è una pena molto alta spoporzionata spoporzionata e non sta nei cieli un'intera ma ormai non ne vuoi più parlare si è roba vecchia è roba vecchia ok senti cosa ne pensi del business online lo consiglieresti a un ragazzo che vuole assolutamente sì ma lo devi far bene ci sono tante persone che guadagnano un sacco di soldi ma lo devi fare bene quale modello di business online consiglieresti tra i tanti ma oggi ce ne sono ce ne sono tantissimi l'e-commerce il trading gente che guadagna poi gente anche che ti prende per il culo perché oggi sai trovare 1000 euro 1500 euro per partire e avere possibilità di guadagno li trovano tutti chi poi fa quei sistemi dove fai i level up con quelli che investi però c'è tanti buttano i soldi come buttano i soldi dall'immagine però ci sono sistemi e ti ho fatto degli esempi precedentemente che se hai delle idee giuste come quello dell'antico vinaio a poco a poco e hai comunque un lavoro perché l'antico vinaio che cosa aveva di base? aveva di base i panini più buoni del mondo perché quei panini non so se li avete mangiati sono buonissimi 4 etti di affettato dentro alla fine quello è il format la focaccia la focaccia sempre calda la focaccia calda la focaccia buona la roba che te la mangio ovunque quindi poi crei un buon sistema di comunicazione ma il prodotto ce l'hai buono funziona ma alla fine è il prodotto la differenza tra me e gli altri tu puoi fare tutta la comunicazione che vuoi ma dicevamo quella questione dell'ego narcisismo ma io sono una persona che studia quotidianamente e sono più preparato di tutti quindi non è che vendi aria vendi sostanza vendi contenuti cioè io mi posso sedere al tavolo con la Meloni e parlare di politica col Papa e parlare di chiesa e con Biden e parlare di America con Biden ce la faresti con Biden con Trump no con Biden non si legge il piede capisci più niente neanche se ce la fare Trump la moglie che è ex presidente degli Stati Uniti questo dichiarato in varie interviste quando era ragazzina girava a Milano era l'ultima delle modelle scasciata gli lanciavamo gli lanciavamo le noccioline è diventata la first lady apriamo un po' il tema donne ultime domande qual è ti diverti ti diverti vorrei che tu a che ora doveva arrivare oggi a mezzogiorno e mezzo sono arrivato alle 5 e mezzo però nella mail cosa ho scritto si ho capito cosa ho scritto dillo nelle mail di Fabrizio Corona c'era scritto dai per scontata la mia non puntualità vabbè noi si è detto vabbè una mezz'oretta una mezz'ora 5 ore nomina il personaggio più falso in Italia che tu hai conosciuto se vuoi Gabriele Parpiglia ah proprio così subito ah perché te è vero con Barbiglia un ciaio fai i nomi siamo veloci è più antipatico Gabriele Parpiglia quante donne hai avuto te ora voglio andare un attimo nel trash andiamo nella situazione più di trash talking più di 5 mila 5 mila quanti anni sono ci crediamo c'è una ragazza che fa così te fai conto che io la prima volta l'amore l'ho fatta a 13 anni ok calcola calcola dai metti dai dai 18 ai 50 quanti anni sono 32 ok 32 32 per 360 considerando che da quanti anni è che prendi sarebbe come per 13 anni ti sei fatto una al giorno attenzione abbiamo la ricerca sono sono 11 mila fai 11 mila diviso 3 mila 11.680 diviso 3 mila diviso 3 mila 3 virgola 3 vuol dire che ti fai circa 300 donne l'anno 300 donne l'anno è vero 300 donne no non calcolo sbagliato mi sono distratto non è da me rifai fai 32 anni fai il calcolo delle donne fai 32 anni per 365 11.600 sono 11.000 giorni ok levando i primi 10 anni 11.000 giorni abbiamo detto siamo intorno ai 3.000 vuol dire una ogni 5 giorni non è tanto tenendo conto che ci sono i giorni me ne sono fatte 3 però capito c'è quella fase attrazione tutto non ti leva il focus dal lavoro fare tutto tutte queste ragazze invece te lo spiego perché per me è semplice ora non sono più così attenzione con 4 pasticche i gialli ce la fai martelli tutto il giorno ci fai un buo nel pavimento ora non sono più così sono fidanzatissimo da 2 anni ok ora sono fidanzatissimo da 2 anni sono vecchio sono stanco ma sono fidanzato e sono serio sei fedele? sono fedele ce n'è stata una che dici la migliore Belen Belen è perennemente la donna del mio cuore che sempre abbiamo un rapporto unico e speciale anche tuttora? no poi ho avuto una ragazza quando ero giovane che è stata non lo posso dire perché è sposata c'era mia età quando c'evo 15 io ho avuto una fidanzata dai 13 ai 19 che era bellina anche lì ho sempre avuto una storia più lunga che hai avuto no ho avuto sempre storie lunghe io sono sempre stato fidanzato ho avuto una ragazza dai 13 ai 19 che poi ho sempre avuto ragazze famose che facevano qualcosa di importante questa ragazza era della Milano Bene era famosissima perché faceva tutti gli spot televisivi faceva il spot del cornetto algida ha fatto il maxi bond con Stefano Corsi quindi era una super famosa pubblicità o era su YouTube bellissima di Milano che ovviamente tradivo regolarmente una volta in estate la 3D ebbi una storia con una ragazza siciliana di cui non faccio il nome e quella ragazza mi è rimasta nel cuore tuttora per esempio ma avevamo 15 anni sono passati hai mai avuto invece rapporti omosessuali? non ho mai avuto l'altra volta ho fatto la battuta rapporti omosessuali non ho mai avuto aspetta per adesso vabbè ma non ci sarebbe niente di male è una domanda esatto invece io ho l'ultima domanda e vediamo poi se metterla o no per caso fai parte di qualche club massoni no 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 la massoni è una roba che poi non mi è mai interessata no davvero? non te l'hanno neanche mai proposto? no 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 ho amici posso fare parte di qualche club di scambisti forse ok è una roba che non mi è mai interessata ho degli amici che sono massoni che hanno quella roba lì ma è una roba che non mi è mai proprio interessata ma perché non ti è mai interessata? te me lo chiedi perché qui siamo nella patria della massoneria sì esatto questa zona qui è piena questa zona è piena di puttani e di massoni è vero giusto? questo è il fulcro ma qui se ne vanno dove stiamo registrati ma perché vedi no ma spesso e volentieri la massoneria viene vista come un qualcosa di brutto ma infatti qua andiamo su un discorso che credo che di cui io sono molto preparato ovviamente ma eviterei perché secondo me è una roba che annoia cioè non è il focus di questa a me è una cosa che piace a me mi affascina tanto però sì magari il pubblico va bene senti Fabrizio se oggi dovessi ripartire da zero c'hai 19 anni cosa faresti? quale sarebbe la strada che prenderesti? oggi? se dovessi partire da 19 anni da zero completamente non ti conosce nessuno tipo come se fosse un consiglio che daresti a un ragazzo ma dipende ai tempi io ero amavo l'editoria la carta stampata i giornali e in quell'epoca vedevo un business oggi dovrei capire a 19 anni oggi che cosa mi potrebbe piacere non so mi dovrei proiettare il futuro non lo so è una domanda a cui non puoi rispondere e invece se dovessi dare un consiglio al te di 19 anni che consiglio ti daresti? che fare le stesse cose ho fatto una vita ragazzi che in questi 50 anni la rifaresti? tutta e non ti penti di niente? sei fresco vedetti così ora io non sono omosessuale però ti vedo fresco quindi ho 49 anni ma esiste un uomo più bello di me? no diverse persone che conoscono il sesso femminile dicono questo non devi vedere soltanto l'estetica anche quello che c'è all'interno di questa testa comunque prima di concludere sono contentissimo prima di concludere voglio hai mai fatto un podcast così? il più bello di tutti con il più bello di tutti vai voglio intanto farti complimenti per l'orologio perché è un qualcosa di assurdo questo è veramente veramente bello poi chiamiamo viene Ruzza tra l'altro lasciamelo qui così ah Ruzza io dico una cosa di Ruzza farglielo sentire io Ruzza l'ho conosciuto perché l'ho cercato io per un'operazione che abbiamo fatto mi sembrava un cretino invece è un ragazzo molto in gamba sveglio che sa fare il suo mestiere ed è molto simpatico e c'è il feedback positivo sì Ruzza positivo e le conti invece non mi ha detto Ruzza simpaticissimo Ruzza è veramente un bel tipo e quando lo fai venire ti farà divertire tantissimo allora io ho bisogno di chiederti due favori poi ti lascio andare vai il primo devi mandare un messaggio vocale a mia nonna si chiama Neda perché ti ama e si ritorna al discorso che facevi prima che sei arrivato a molte generazioni Neda io spero di venire a trovare presto mi fa un piacere di nascere a te di voi e ti voglio molto un abbraccio e un bacio allora mando un messaggio a lui mi mandate un messaggio a me ragazzi ok ricordate questo andrà virale grande profezia oggi è il 2 di maggio sono le 17.35 e io ti dico che l'Inter andrà in finale di Champions grazie speriamo di no questo poi farai la puntata lo pubblicherai all'ultimo minuto quando ci saranno finite le due partite e poi senti qua vedi come puoi vedere abbiamo le firme di tutti i nostri ospiti c'è anche quella di Miranda Marchi se la vuoi fare sotto mano se la vuoi fare nella doga dei VIP sotto la linea nella doga dei VIP grazie mille a Fabrizio Corona grazie Fabrizio ciao raga ciao raga bello eh